La Lega Fano chiede all'amministrazione comunale di fare chiarezza sul caso della Tundo. La Tundo è una società che ha in carico la gestione del servizio per portare i nostri figli a scuola tutti i giorni e andarle a riprendere per riportarli a casa. Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto da tantissimi genitori sappiamo che la Tundo, oltre a essere inadempiente nei confronti dei propri dipendenti, perché sappiamo che manca ormai da diversi mesi il pagamento degli stipendi, ci sono anche delle situazioni addirittura di grave pericolosità per i mezzi che vengono utilizzati. La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto, viene prima della politica, viene prima dei soldi, viene prima dell'assegnazione delle gare d'appalto. Chiediamo all'amministrazione comunale che controlli tutti i mezzi, uno per uno, devono essere controllati perché dobbiamo avere la sicurezza che questi siano i doni alla circolazione. Chiediamo anche il motivo per il quale ad oggi non sia stato revocato il contratto, perché sappiamo che altri comuni hanno revocato il contratto che era scritto alla Tundo, per poi scegliere un'altra azienda che invece riesca a garantire il servizio.